Nel 2020 ogni persona con meno di 30 anni che decideva di diventare soci avremmo piantato un nuovo albero. L'abbiamo fatto in quattro città a Roma, a Viterbo, a Grosseto ed a Livorno. Grazie a un progetto che è partito da 0C2 che si chiama Mosaico Verde e soprattutto grazie a Unicop Tirreno siamo riusciti a realizzare la piantumazione di alberi lungo la nostra pista ciclabile in alcuni tratti in cui la vegetazione non era così rigogliosa. Mosaico Verde è una campagna di 0C2 che ha un obiettivo molto ambizioso, realizzare la piantumazione di 300.000 alberi in tutta Italia. Unicop Tirreno e Parco della Maremma hanno consentito questo intervento che se vogliamo è anche una buona pratica. Grazie a tutti!